Ciao a tutti, voglio mostrarvi questa custodia per laptop molto elegante, semplice e minimale della Amosiso. Vi arriva in questa semplice busta semitrasparente con il marchio della casa produttrice e all'interno troviamo la custodia e in più un piccolo borsello quadrato in cui poter riporre gli accessori. Ma vediamo un po' più da vicino questo prodotto. Innanzitutto c'è da dire che il materiale di cui è fatto all'esterno è molto buono e resistente, anche impermeabile. All'interno invece è bella imbottita in modo che il nostro laptop non si possa graffiare e in più non abbia particolari problemi se per caso lo urtiamo da qualche parte. Ha questa doppia cerniera che ci permette quindi di aprirla e chiuderla in modo che il nostro laptop possa essere inserito senza alcun problema e riporta soltanto qua sotto il nome della casa produttrice. Quindi come vedete semplicissimo in più abbiamo il suo borsello che lo stesso è fatto all'interno bello imbottito anche questo. Si apre quindi con la cerniera come vedete per tre lati e all'interno possiamo mettere magari i cavetti o quello che più desideriamo. È comoda anche da utilizzare come semplice borsa da portare a mano perché come vedete è molto elegante, non è detto che bisogna per forza metterla nello zaino e anche volendola mettere diciamo in una 24 ore o in uno zaino non crea problemi di ingombro perché come vedete è molto sottile quindi è veramente molto comoda e utile per un prezzo direi accessibile. L'unica raccomandazione come sempre è di prendere bene le misure del vostro laptop perché diciamo è idonea per laptop di 13 pollici per laptop superiori non potrebbe andare bene quindi mi raccomando le misure guardate bene le misure e potete quindi comprare senza alcun problema questa meravigliosa custodia. Ciao alla prossima